A Napoli nasce la carta dei diritti dei riders. La presentazione è avvenuta quest'oggi nella sala giunta del comune di Napoli, alla presenza del sindaco, dell'assessore ai giovani Alessandra Clemente e alla presenza anche di segretari napoletani della CGL, della CISL e della UIL, nonché dell'assessore Monica Buonanno. La carta è un formale riconoscimento della necessità rivendicata da questa amministrazione di stimolare una discussione sulla cultura del lavoro e promuovere la crescita dell'economia digitale, senza arretrare i suoi diritti e sulla tutela dei lavoratori, ma favorendo un consumo responsabile. Obiettivo è quello di puntare al riconoscimento dei diritti dei lavoratori della GIG Economy, di cui fanno parte i riders e tutti coloro che su piattaforme digitali si candidano per lavori di chiamata. Questo è quanto hanno espresso in conferenza stampa i relatori. Ascoltiamo i protagonisti e i nostri microfoni. Napoli è ancora una volta città dei diritti e quindi il diritto al lavoro. Vogliamo essere in prima linea insieme ai sindacati e ai lavoratori per costruire la carta dei diritti di questa nuova forma del lavoro. Quindi diritto a un lavoro giusto, ben compensato, sicuro, senza discriminazioni, con il diritto alla salute garantito, alla reputazione, una carta importante. Adesso ci vuole la voce dei datori di lavoro, ma ancora una volta Napoli, come ho detto anche al Ministro del Lavoro l'altro ieri, in prima linea nell'attuazione dell'articolo 1 della Costituzione che mette il lavoro al centro della nostra democrazia. CGL, CISL, Will, che voglio ringraziare. Abbiamo presentato oggi a Palazzo San Giacomo una carta, una carta di diritti, perché questi ragazzi non possono essere un mezzo come la busta che tiene in caldo il cibo quando arriva un ordine a casa. Queste ragazze, questi ragazzi sono delle persone e allora il lavoro cambia e deve cambiare anche il punto di vista di chi lotta per il lavoro e per i diritti. Abbiamo presentato una carta che quindi vuole essere un'opportunità per i datori di lavoro, queste multinazionali, a fare insieme un percorso per riconoscere più diritti, più sicurezza e soprattutto meno precarietà per questa forma di lavoro. Oggi è una giornata importante, prende vita la carta di diritti appunto per i riders, una sfida importante che io ho incontrato insieme all'attuale collega, l'assessore Felaco, quando eravamo in Consiglio Comunale. E ovviamente è stato un lavoro di grande squadra, costruito con l'assessorato ai giovani di Alessandra Clemente, l'assessorato al lavoro di Monica Buonanno e che porta la firma del nostro sindaco. E' stata una risposta importante ad un fenomeno lavorativo nuovo, un percorso in cui dal basso si è ascoltata la voce appunto dei lavoratori e delle lavoratrici di questo settore, accompagnato con le sigle sindacali. Noi lanciamo una sfida ai datori di lavoro e ovviamente alle compagnie che utilizzano questa tipologia di lavoro che oggi è sempre più precario. E' una sfida importante, è una sfida che parla di diritti, parla di una autodeterminazione giusta attraverso il lavoro che può essere anche in una forma innovativa, che però non deve dimenticare appunto i diritti di dignità della persona e di sviluppo completo della propria vita. E questa è una sfida appunto che noi lanciamo e sono certa che sarà soltanto l'inizio di un percorso che sicuramente l'amministrazione comunale e il sindaco non abbandoneranno. Noi siamo frustati da questa società che dicono che è un lavoro occasionale, ma noi diciamo lo prendiamo come primo lavoro, non è un lavoro occasionale. Quindi noi ci devono rendere più sicurezza, più affidabilità e poi noi rischiamo giorno per giorno la vita, soprattutto anche, sta in tutte le città. Ma Napoli è una città difficile anche da poter effettuare questo tipo di lavoro.